Ciao ragazzi, benvenuti nella seconda parte dell'intervista al professor Lorenzo Bergami. Siamo alla Strategic Nutrition Center di Bologna. Allora parliamo adesso di quali alimenti bisogna assumere prima di un allenamento per avere più energia, più resistenza. Ciao a tutti innanzitutto. L'aspetto di cosa mangiare prima dell'allenamento è molto importante capire anche il momento della giornata in cui ci troviamo ad allenarci. Perché se ci alleniamo alle 3 del pomeriggio e abbiamo mangiato, pranzato comunque a luna, allora è chiaro che il pranzo che antecede un allenamento, mediamente se vogliamo avere un buon apporto energetico, deve essere composto da una base di carboidrati. Questa base di carboidrati deve essere a basso indice glicemico, quindi preferibilmente da cereali integrali e sempre con un apporto proteico, che può essere per gli onnivori una componente di proteine animale come carne, pesce, uova, latticini, o comunque rispetto a un soggetto di tipo vegetariano può essere composto da legumi piuttosto che da derivati proteici come il tofu, il seitan o altro. È chiaro che è importante con due ore di tempo non eccedere nella quota di grassi, quindi se parliamo, nella fattispecie precedente, il latticini ad alto contenuto di grassi saturi sono sconsigliabili per l'aspetto infiammatorio, quindi è sempre meglio puntare su delle proteine magre. Se invece ci troviamo ad allenarci prima di cena e quindi dal pranzo passano anche quelle otto ore prima dell'allenamento, diventa importante riuscire a fare uno spuntino, un break, mangiare qualcosa nelle due o tre ore che antecedono l'allenamento. Ma cosa mangiare in questo caso? È importante riuscire ad abbinare sempre una fonte di proteine e di carboidrati, cercando di prevalere sull'apporto di potassio, perché diventa un minerale molto importante per l'idratazione intracellulare, fondamentale nel preallenamento. Quindi che cosa mangiare? Può essere se utilizziamo un pezzo di parmigiano che ha un alto contenuto di sodio, abbinato comunque magari a una banana o a un frutto, come può essere una mela, sempre per compensare l'apporto di potassio rispetto a dei fiocchi di latte che possono essere consumati, che hanno un po' meno sodio, con delle gallette di riso senza sale. Oppure si può consumare dello yogurt magro, di soia, piuttosto che il greco o tradizionale, quindi senza l'aggiunta di frutta, perché ci interessa abbinare la frutta vera, che è quella che contiene potassio, oppure uno potrebbe mangiare anche un panino con del pane integrale, con lievitazione naturale, preferibilmente un po' di affettato magro o dell'affettato vegetale, che però in quel caso la componente di potassio va integrata nel preallenamento, cioè subito prima dell'allenamento può diventare utile, non avendo assunto del potassio precedentemente, un'integrazione con qualche frutta disidratata, come possono essere delle albicocche o un po' di uvetta, abbinata ad almeno 250-300 ml di acqua. Acqua che è importante bere in modo regolare nell'arco della giornata, perché l'essere umano non riesce ad immagazzinare acqua durante il giorno. E quindi noi, se ci troviamo a bere mezzo litro di acqua prima di un allenamento e durante l'arco della giornata abbiamo bevuto poco e niente, ci ritroveremo ad urinare alla fine del riscaldamento senza poi riuscire ad avere dei livelli di idratazione ottimale. Per cui diventa molto importante anche capire che cosa bere durante un allenamento, perché se facciamo degli allenamenti ad alta intensità di preparazione o comunque anche sulla ring, dove la sudorazione diventa molto intensa, perché facciamo sempre degli sport di tipo indoor, e quindi anche nei mesi invernali in cui si suda un po' meno, però comunque la sudorazione diventa molto intensa. Il tipo di acqua da integrare per migliorare l'idratazione deve avere un contenuto di sodio durante l'allenamento più elevato, perché invece è il minerale che perdiamo di più tramite il sudore. Quindi che cosa utilizzare? La cosa più importante è un isotonico, cioè riuscire ad aumentare l'osmolarità, quindi col contenuto di sodio dell'acqua tramite un integratore già predisposto oppure utilizzando degli isotonici fatti in casa a base di zucchero, un po' di bicarbonato di sodio e del limone spremuto per compensare questa attività. Nel durante è importante quindi anche sorseggiare regolarmente la bevanda che mi sono preparato, perché ogni 10, 15, massimo 20 minuti ho bisogno di introdurre 100-200 ml di acqua, e più la mia attività è intensa, più ho bisogno di bere poco e in maniera regolare, perché diversamente troppa acqua nella pancia poi dopo rischia di crearmi problematiche dovute al malassorbimento di tipo intestinale. Quindi al sentirmi gonfio e ad avere comunque il rigurgitino di acqua della bevanda che mi sono preparato e quindi all'effetto non ottimale sulla performance. E invece come dobbiamo reidratarci dopo l'allenamento? Perché voci di corridoio dicono che anche la birra aiuti a reidratare il corpo, è vero? Sull'esempio della birra bisogna specificare un attimo che tipo di birra, perché chiaramente la problematica è alcol. L'alcol ha un altissimo potere di disidratazione, quindi se io bevo una birra, che contiene alcol, se l'aspetto fondamentale sui carboidrati può essere utile perché la birra è un pane liquido, cioè fatto da un cereale fermentato, ma il contenuto di alcol vanifica tutto l'effetto. Se io utilizzo comunque una birra senza alcol, allora in quel caso l'acqua abbinata al maltosio, che ha il disaccaride contenuto, il carboidrato quindi contenuto in questa bevanda, può diventare funzionale al recupero. Ma quello che però ci manca per completare questo miglioramento dell'idratazione è poi andare ad introdurre qualcosa che mi serva per il recupero muscolare dell'esercizio fatto. E quindi posso aiutarmi nella fattispecie utilizzando poi un integratore di proteine del siro di latte o uno yogurt magro o qualche aminoacido, che però in tal caso sarebbe più ottimale associato ad acqua e a della frutta, perché post allenamento diventa di nuovo molto importante il contenuto in potassio per migliorare l'idratazione. Quindi se la domanda, per rispondere bene alla domanda sulla birra, entro un'ora dalla fine dell'allenamento, assolutamente no birra che contenga alcol. È molto importante riuscire ad introdurre dei carboidrati, quindi una 40-60 grammi di carboidrati subito alla fine di un allenamento per un atleta sui 60-75 kg per recuperare il glicogeno speso abbinato comunque a una proteina di assorbimento veloce, come una whey protein o qualche aminoacido romificato o dello yogurt senza grassi, perché è importante velocizzarne l'assorbimento. Perfetto. Allora, caso birra risolto. Io vi dico che siamo giunti al termine della seconda parte. Cliccate la terza. Ciao.